Nei giardini di pescia i fiori inaffiati confrontano il loro splendore con gocce di diamante. Ad altri confronti essi tengono testa con altri grandi fiori della creazione. Mani più dolci non potrebbero trovarsi a consolare dali e garofani di essere recisi. Ma non sognatevi fiori di tessere ghirlande a queste belle fronti. State per iniziare un viaggio che si apre con questo volo come un gioco. Ed ecco la vostra carrozza letto in cui vi sdraiano per i lunghi chilometri del vostro tragitto. I muri sono come le banchine, come la stazione da cui partite a grandi mazzi. Pescia è uno dei giardini d'Europa, i suoi garofani sono illustri. Via verso il mercato, lo scampanellare delle biciclette è un'argentina vanguardia di profumi. Grazie. 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 Grazie.